Il Vescovo di Reggio, per nulla scoraggiato dalle critiche alla sua omelia, che ha evangelicamente richiamato al valore cristiano dell'accoglienza ai migranti, è tornato ad esternare. Stavolta lo ha fatto per iscritto, indirizzando una lunga missiva al Ministro della Salute Giulia Grillo. Il preesule ha preso le mosse dalla drammatica situazione in cui versa la sanità calabrese, per dire, senza mezze misure, che il commissariamento del comparto non solo non ha risolto nulla, ma anzi ha peggiorato le cose. Le scrivo, dice Morosini al Ministro, in riferimento alla condizione della sanità qui in Calabria, dove si va di male in peggio e dove il provvedimento di commissariamento, preso dal precedente governo, sta creando danni piuttosto che offrire soluzioni, se nel giudicare partiamo dal principio del primato della persona e della cura della sua salute. Abbiamo sperato tutti in Calabria, dice ancora Morosini, che il nuovo della politica, dopo le ultime elezioni, desse una svolta a questo annoso problema. Più chiaro di così il Vescovo non poteva essere, neanche il nuovo governo è stato in grado di dare una scossa al sistema e sostituire Massimo Scura, che è sempre di più un corpo estraneo in Calabria. I suoi scontri con Oliverio non fanno più notizia, ma ormai Scura si è messo contro anche dirigenti e medici, come dimostrato all'ennesimo colpo di mano avvenuto all'aspe di Reggio. Il Vescovo, infine, ha ricordato i tagli alla sanità privata e la chiusura degli ospedali pubblici di periferia. Una gestione draconiana che ha calpestato il diritto alle cure per i malati, che Morosini adesso ha deciso di prendere per mano. Riccardo Tripepi per la Cineus 24.